Martedì 22 marzo Santa Lea e l'ottantaduesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 284 Il sole sorge alle 6.09, tramonto alle 18.26, la luna si leva alle 17.37, tramonto alle 5.39 Viene demolito il carro di fusina, cioè il macchinario con il quale le imbarcazioni potevano superare il dislivello dell'acqua e passare nel canal Brenta Viene sostituito dalle porte testè costruite a mira Le previsioni per domani Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei passaggi di nuvolosità Precipitazioni assenti In pianura temperature minime in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo Generale calo termico in quota, marcata escursione termica